Arresto cardio circolatorio compatibile con il colpo di calore, questo è il risultato dell'autopsia sul corpicino di Tamara, la piccola di 16 mesi trovata morta nell'auto della madre a Castelfranco di sopra due giorni fa. Sarebbe stato dunque il calore sviluppatosi nell'abitacolo della vettura parcheggiata al sole di fronte al comune valdarnese dove la mamma Ilaria l'aveva lasciata, la causa della morte. Il referto dell'esame autoptico è già stato depositato in procura ad Arezzo e indica che non sono state riscontrate patologie particolari né tracce di emorragia celebrale. Ad eseguirlo sono stati gli esperti di medicina legale di Siena che lasciano l'ospedale della Guccia intorno a Luna. Il PM Andrea Claudiani ha iscritto la donna nel registro degli indagati dopo averla sentita fino alle 21 nella caserma dei Carabinieri ma al momento ha escluso l'accusa di abbandono di minore e si procede per omicidio colposo. La trentotenne che lavora sia per il comune di Castelfranco di sopra che per quello di Terra Nuova avrebbe riferito di essere uscita di casa al mattino presto, di essere salita in auto con la piccola e aver proseguito per Castelfranco anziché lasciare all'asilo nido Tamara che era nel suo seggiolino così come faceva ogni giorno. Salita in auto e si è resa conto che invece dietro c'era la piccola e da lì la sua vita è cambiata per sempre. Il marito Adriano Rossi fin da subito pur nella disperazione avrebbe avuto un atteggiamento protettivo nei confronti della moglie. La donna sarà sottoposta ad un esame psichiatrico per capire se nel momento in cui ha dimenticato la bimba potesse essere stata colpita da amnesia dissociativa, un'ipotesi che potrebbe portare anche al proscioglimento. La piccola Salma è già stata restituita alla famiglia, i funerali si terranno in forma privata.